cloud ma tu hai un martello enorme e i goblin ma scusa ma com'è che te lo vendono sti martelli perché anch'io lo voglio comprare bellissimo devi picchiarli piccoli ho capito ma aspetta un attimo allora fermo allora io picchio ma dopo dov'è che lo devo li devo comprare devi livellare praticamente livellando più ti danno poi le armi più forti e dove 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 li vedo i livelli in tutto rango 11 sono a rango 11 io posso negozi no negozi questo è il negozio con i roblox e robux la come caspita si chiamano dove lo spadone fammi vedere cloud dove fammi vedere non è uno spadone quello perché parli base alza alza il volume nella testa ok va bene no no non va bene affatto non va bene ma quindi amici ci sono tipo delle isole qua sopra cioè nel senso ci sono altri posti dove poter andare in questa in questa landa desolata di mari di martello è una domanda e ci sono o no ma non lo sai ok perché secondo me andrebbe cercata infatti ma tipo secondo me andiamo provate andare più avanti nella mappa che secondo me lì ci potrebbero essere tra l'altro io vedo tu vai a vedere poi fammi sapere che io qua vedo richieste di gruppo ma che cos'è sta roba secondo me dobbiamo sbloccare una nuova area con un bel po di soldi però sono al top di soldi non ne posso prendere altri ok quindi sì effettivamente magari dove bisognerebbe sbloccare una nuova area solo che va fatta questa cosa e io anch'io martello adesso però solo 2800 scusa come hai fatto ad allora l'area si compra con 180 mila ma io a 52 mila k mi dice che sono con l'inventario pieno secondo me perché dovresti prenderti uno zainetto tipo upgrade are tipo il tuo posto c'è il tuo il tuo inventario tipo ok 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 ma non so come si fa dove dove si compra stavano capito 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 l'inventario è quello delle armi mentre i soldi te ne fa andare avanti dobbiamo semplicemente ammazzare sti cosi ma amici avete visto la mia mascherina che bella che cos'è è un che caspita di voce era cloud era è tipo un demonio comunque la mia mascherina comunque adesso possiamo andare alla nella savana non fare versi che caspita fare invece io adesso faccio non fare versi ti ho appena detto non fare versi fai un verso cioè veramente questo è proprio sciocchino allora goblin primitivo io sto ammazzando i goblin primitivi intanto ci sta sono molto belli questi goblin cioè sto scherzando fanno schifo io uccido i goblin sparchi eh fai bene ma scusa ma cioè la prossima zona si acquista in 25 milioni di monetine stai scherzando sono un po' tanto e sono tantissime una scama una truffa una truffa ma perché sembri scemo quando parli scusa non essere scemo è perché piangi non piangere dai ce la puoi ce la possiamo fare ok ok vabbè intanto scusa scusiamoci tutti quanti ma quasi devono imparare a fare i video eh raga io sono ovviamente super esperto però nel senso qua non è che possono essere tutti come me voglio dire cioè adesso me la tiro un pochino ma è la verità no cioè nel senso voglio dire io voglio dire a scusate mi era venuto in mente questa ragazza molto simpatica di quanto ti manca per arrivare alla zona della savana io ci sono già dentro nella savana già dentro eh sì sono così dentro no dai veloce muoviti vabbè dai entra entra che so che comunque più o meno ci sei vero evolvi gli articoli posso evolvere gli articoli però intanto qua posso anche prendere le uova pet uova allora aspetta ecco qua magari mi esce tipo qualcosa leggendario vediamo no 3 milioni non ce li ho e nemmeno 200.000 silenzio razza di non lo so che caspita sei però mi è uscito un pet epico a caffè go scusate tanto devo vantarmi adesso con il mio pet epico raga adesso con questo qua farò tante apparate di soldi ma tanti di quei soldi che voi veramente resterete indietro ma tipo tutti guardate qua guardate quanti soldi che posso facendo raga pazzesco comunque ho notato di parlare leggermente in corsivo a volte senza volerlo secondo me questa cosa è per via delle canzoni che a volte c'è tipo avete presente che tipo nelle canzoni e tipo c'è blanco che cantano poi leggermente in corsivo secondo me oppure c'è anche da su prima volte che la nostra comunque scrivetemi i cantanti che cantano in corsivio perché secondo me a volte un po queste cose no mi fanno venire un po di corsivo comunque mi dice per due monete aggiunto al tuo inventario you rank up va bene sono un sacco avanti sono 300.000 monete io sto prendendo un sacco di pet sto tirando ad aprire uova va bene tu si più felice però c'è nel senso che è una cosa detrimente aprire le uova è il tuo destino ormai devi saperlo questo cioè silenzio tutti perché qua siamo posso schiacciare il trofeo che mi dà dei delle cose vediamo mi dà tipo dei delle cose fighissime aspetta 9 milioni 9 milioni di monetine bene ma che fa 650 ma perché tu stai bisbigliando cose che non interessano a nessuno no devi parlare di cose contestuali cioè nel senso di cosa dire ripariamo tutto il pappagallo allora mi è uscito un coso non comune però no io volevo prendere questo da 3 milioni raga vediamo un attimo cosa mi un altro è un pappagallo fighissimo anch'io un pappagallo posso prenderne un altro vabbè dai un altro successo che non dovrei ma non comune per risiedere cioè fai un altro un altro ho sperduto tutti i miei soldi un raro va bene adesso sono di nuovo povero amici più di dello spadone di 800 non ho trovato però magari chi lo sa potremmo trovarne qualcosa adesso siamo a 6 milioni guardate che 25 milioni arrivano subito è cioè adesso ormai 25 milioni siamo ci siamo amici quindi è solo questione di attendere cloud dimmi una una favola che ti sei appena inventato vai sentiamo allora raggine allora lo sai vai inventa qualsiasi cosa tipo che c'è il cattivo che ti vuole fare c'erano una volta dei goblin con primitivi con le ossa nella testa e non riuscivano a vedere o no sbattevano uno contro l'altro continuamente non la so una storia ad unis non lo so proprio e no andava bene e sbattevano ognuno e quindi qual è il plot cioè cos'è che succede è che un giorno arriva un giorno arriva un maiale un dinosauro ok e se mangia e però si ingoia gli scheletri e more fine quindi muoiono tutti alla fine sì che tristezza ma cloud ma mi hai deluso cioè che storia triste adesso voglio sentirne una più felice dopo però non adesso dopo do inventati una storia più felice poi me la racconti ok scrivetemi nei commenti vi è piaciuta la storia di cloud fighissima che secondo me c'è cloud ha un potenziale per diventare un non lo so uno scrittore di romanzi un pirla questo sicuramente ma mica una parola brutta che non dai non ne frega voglio dire posso anche dire tipo vabbè 25 milioni posso prendere dai ci siamo quasi 22 milioni per il affetto purtroppo non può parlare se no avrei chiesto a lui di raccontarmi delle cose frida non ti vergogni veramente che c'è una volta mi chiedo perché cioè perché fai così schifo ti voglio bene comunque ci siamo fratelli ci sono tutti quanti amici qua basta scusatemi non lo faccio più però ho 25 milioni e amici posso passare oltre io solo 3 milioni aspettami però aspetta un attimo io ho trovato molte altre armi potenti come la clava no però questa qua che ha 800 è la più forte adesso elimino tutte le armi adesso amici tranquilli non preoccupatevi che posso buttare via tutto sicuramente ok perfetto e poi mancherà solo una cosa ovvero aprire la zona più figa del mondo eh eh lo so lo so fighissima allora elimina tutto sì via perfetto apriamo perfetto sono di nuovo povero però intanto intanto qua ci sono nuove cose adesso però potrò aprire tipo i nuovi pet fighissimo guarda che belli i miei pet comunque sono veramente fiero di essere me stesso adesso cosa sto dicendo io devo diventare rico businessman piccando i bambini facciamo i businessman insieme allora no cosa stai dicendo mi dissocio da questa cosa che appena detto e scusa intendevo i goblin vedo ah il deserto praticamente vedo anche le cose tipo la percentuale di probabilità che mi escono tipo delle cose e tipo c'è una una spada epica con il 2% di possibilità che mi esca voglio quella spada ora ti prego dammela ah adesso voglio andare a prendere un altro pet vediamo silenzio tutti raro un altro pet raro però scusa un attimo ma vediamo se è meglio rispetto agli altri oppure no perché allora se io vado qua sui pet questo pet raro che al 125% caspita e posso dir la mia è veramente tanto adesso qua guadagnerò un sacco di soldi guardate ush ush raga sono un tipo ricchissimo raga voi non avete idea sono schifosamente ricco benvenuto clave sono molto benvenuto a me stesso perché parli basso adesso che ti è benvenuto benvenuto a me stesso è infatti veramente vai un altro vai 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 tanto sono talmente schifosamente ricco no comune questo no un altro ancora dammi un altro forza vediamo non comune è che pizza un altro vediamo magari me ne uscirà qualcosa di bello dai che pizza ma sempre gli stessi che schifo però se metto questi qua che sono ancora più forti tecnicamente posso avere possibilità in più tipo questo qua è del 100% di più era una roba veramente ho trovato una spada da 3.000 una spada da 3.000 ma davvero da 3.000 che schifo aspetta voglio anch'io però spade da 3.000 no io ho due spade da 2.000 no no voglio anch'io aspetta come hai fatto a prenderle non puoi andare più avanti di me come ti permetti non è colpa mia si invece aspetta raga qua che figo le caverne raga raga davanti a me ci sono le caverne oh mio dio scusate ti faccio io voglio vedere le caverne le voglio vedere secondo me qui si nasconderanno i segreti più pazzeschi del mondo raga veramente una spada da 4.000 sentite quanto è fogato poi meno male che non gli piaceva roblox a sto qua invece gli piace roblox best game e hai visto hai visto lo so lo so che il best game ever amico mio lo so lo so e però è ancora spada da 2.000 che schifo dai dammi una spada da 4.000 ho una spada di cactus adesso dai che spizza però adesso magari mi darà qualcosa di bello devo superare cloud scusate non chiederemo questo video finché non supereremo cloud adesso veramente adesso è una sfida è una sfida sì assolutamente una nuova spada vediamo un attimo che penso eh cloud ti odio perché sei così sfortunato non è giusto cosa ridi così poi parla mannaggia te eh sai io essere big brain e big brain porta fortuna vabbè allora porta fortuna anche a me vediamo mandami una tua magia di fortuna il big brain porta fortuna ai big brain io sono un big brain eh non so se si può dire come ti permetti dai manda fammi un incantesimo di fortuna vediamo se ce la fai eh ambaradambarabimbambam trova la spada da 4.000 eh vediamo adesso magari la trovo veramente ti immagini la trovo veramente oh ti giuro per tutta la vita ti chiederò di farmi un incantesimo di fortuna non sto scherzando ok sarai tipo condannato a vita per questa nuova spada vediamo no non è da 4.000 però forse adesso arriva eh vediamo vai usa tutte le tue energie mentali per farmi ambaradambarabambam la spada migliore che tu puoi trovare ok vediamo cioè quella il cactus praticamente può la spada migliore come ti permetti no la spada vediamo ancora spada di 2.000 ma che pizza ma forse devi provare ad andare a uccidere gli altri tizietti sono loro che me l'hanno data ma gli altri tizietti chi esattamente quelli quelli all'inizio quelli all'inizio aspe ma qua c'è un tizio veramente enorme che posso uccidere posso picchiando vediamo no però aspetta devo eliminare diversi tipi di armi che adesso le eliminerò i migliori si può uccidere questo ok non uccidermelo sono ti devo uccidere io a te è chiaro ti aiuto ti aiuto che aiutami ma devo ucciderlo io devo dargli il colpo di grazia adesso vediamo un attimo questa barra vediamo cosa succede appena lo ucciderò perché secondo me fermo non chiare più sono ci sono ci sono ci sono ma non è successo hai detto una parola che non potevi dire cloud ti devi vergognare adesso fuori dal gioco non potrei mai più giocare a roblox questa è la tua punizione no invece niente vediamo una nuova spada devo continuare sennò mi superi spada da 3000 ok mi potrai punire alla fine del video no ti punisco adesso come ti permetti no ok scusa adesso guarda ma poi cosa vuol dire vuoi che fai spaventare le persone che ci seguono cioè mi punirai alla fine del video quindi vuol dire che io vi do le mazzate no ovviamente raga non do le mazzate nessuno però adesso aprirò uno di questi pet che è raro volpe ho trovato un pet raro anch'io ho trovato un pet raro vediamo un attimo però quanto fa questo questo pet volpe e no però dai fa schifo questo pet volpe che schifo dai volevo ora adesso prendo questo bene perfetto leggendario davvero è leggendario 150 per che schifoso devo prenderlo anch'io anche io voglio dammi un leggendario è non si può fare non ci posso credere dammi un leggendario detto non comune di nuovo no vabbè scusate ma come è possibile sorriso è stato un sacco di soldi no ti sto odiando cloud ti sto odiando che fortuna aspetta vediamo una nuova arma è pure schifosa il cactus schifoso sapevo io sapevo va bene dai allora le caverne ragazzi se volete le vediamo la volta un altro spado da 4 ore stai zitto no non ti voglio più sentire allora nel prossimo video amici e magari se lo volete di nuovo questa modalità andremo nelle caverne ovviamente cercheremo di sconfiggere lo schifoso di cloud che continua a vincere su di me cioè perché ha fortuna sfacciata ovviamente non è colpa mia che sono più bravo di te no hai fortuna semplicemente brutto sentila come se la tira ah non lo sopporto lo devo bannare va bene allora ci vediamo al prossimo video ricordatevi di scrivere una maledizione nei commenti per cloud ci vediamo al prossimo video ciao